Un buon pomeriggio dalla redazione di E-Live e benvenuti a una nuova edizione del nostro telegiornale. Per inquadrare un po' meglio la situazione del coronavirus nel Bresciano abbiamo fatto un'interessante chiacchierata col direttore generale di ATS Brescia, il dottor Claudio Sileo. Appunto inquadrato un po' quella che è la situazione epidemiologica al momento nella nostra provincia ma abbiamo anche parlato di uno dei temi caldi del momento cioè i tamponi per i turisti di rientro dai paesi della Blacklist. Sì, buonasera. Tamponi immagino si riferisca ai turisti che rientrano dai quattro paesi per cui è obbligatorio il tampone che è un po' la novità del momento. Sicuramente abbiamo importanti numeri, teniamo conto che nei primi giorni abbiamo avuto più di 2.600 segnalazioni di persone rientrate da questi quattro paesi. Quindi viaggiamo una media nel giorno di ferragosto e nel giorno domenica 16 di quasi 500 segnalazioni al giorno. Quindi numeri importanti come d'altra parte in tutta la Lombardia. Si ha un po' la sensazione, dottore Sileo, di non essere pronti. La tempistica per questi tamponi qual è? Dunque, innanzitutto precisiamo che l'ordinanza prevede la possibilità o di eseguire un tampone laddove il turista era, però è poco praticata, ma magari alcuni turisti si stanno attrezzando per fare questo. Oppure eseguirle in aeroporto, anche questo sappiamo bene che pochi aeroporti sono attrezzati, ma anche qui si stanno attrezzando, per esempio Malpensa in Lombardia. La terza possibilità è quella di segnalare ad ATS rientro e quindi ATS organizza questo tampone. Voglio però anche ricordare una cosa positiva che è stata decisa in Lombardia con l'autorizzazione del Ministero, cioè non esiste l'obbligo di isolamento. E in che situazione siamo a Brescia? Siamo pronti per un eventuale aumento dei casi? Sì, ma io più che di seconda ondata purtroppo devo fare riferimento al fatto che la prima ondata non è mai finita, si è molto ridotta, come tutti sappiamo, però purtroppo abbiamo assistito anche in queste ultime settimane ad una brutta sensazione e un convincimento che tutto fosse realmente finito in attesa dell'autunno. In realtà il virus ha dimostrato che il virus esiste, che circola e che laddove non si usino le precauzioni questo virus torna evidentemente a farsi vivo. Per fortuna i numeri sono ancora contenuti, perché ancora oggi abbiamo su Brescia solo 4 nuovi casi positivi, quindi direi che la situazione è assolutamente sotto controllo, però abbiamo avuto anche i famosi 9 ragazzi rientrati dalla Croazia, 9 su 12 e quindi questo è un dato sicuramente che ha messo in allarme e che ha portato ovviamente insieme ad altri dati anche alla decisione ministeriale. Quindi diciamo non c'è nulla di nuovo sotto il sole, se non c'è le precauzioni, le misure non vanno mai allentate perché altrimenti il virus ritroviccia a circolare e da piccoli focolai questi possono diventare focolai più grossi e da focolai più grossi possono interessare un maggior numero di persone. Quindi quello che spaventa è l'irresponsabilità nei comportamenti e soprattutto la memoria corta, cioè nel fatto che proprio a Brescia ci siamo dimenticati o ci stiamo dimenticando quelli tragici mesi. E questo era solo un piccolo estratto della lunga intervista che abbiamo fatto al direttore Sileo, se volete vederla in versione integrale dovete solo collegarvi al nostro sito internet www.lifebrescia.tv dove vediamo anche i dati della giornata di ieri comunicati da Regione Lombardia, come aveva anticipato anche il dottor Sileo nella nostra intervista, sono stati quattro i casi registrati a Brescia nella serata di ieri e fortunatamente, come avete visto nel nostro titolo, sono ancora zero i decessi in Regione Lombardia. Da un paio di giorni questo dato fortunatamente è fermo a zero. Su 5.548 tamponi processati nelle 24 ore precedenti alla serata di ieri sono stati 50 i nuovi casi positivi, quindi un callo di cui sei ridibolmente positivi e uno a seguito di test sierologico. Diamo un'occhiata anche ai ricoveri nell'infografica di Regione Lombardia e vediamo che fortunatamente sono fermi i ricoveri in terapia intensiva. Ieri zero nuovi ricoveri per un totale in tutta la regione di 14 letti di terapia intensiva, mentre per quanto riguarda i ricoveri non in terapia intensiva e i ricoveri convenzionali sono 150 in tutta la regione con purtroppo un aumento di tre nuovi letti, tre nuovi casi. Continuiamo a parlare ovviamente del tema del coronavirus, ne abbiamo parlato, l'altro tema caldo oltre ai tamponi di rientro dall'estero era anche quello delle discoteche chiuse con un'ordinanza del Ministro della Salute e Speranza e c'era stata una mobilitazione dell'associazione di categoria che aveva annunciato ricorso al TAR. Il ricorso è bene è stato fatto, però la sentenza è arrivata giusto pochi minuti fa in tarda mattinata ed è stata una sentenza negativa. Il TAR del Lazio dice no alla riapertura delle discoteche. La pronuncia del Tribunale parla chiaro e dopo l'ordinanza di chiusura di due giorni fa non accoglie il ricorso dell'associazione di categoria che ne chiedeva la riapertura. Nel bilanciamento degli interessi proprio della presente fase del giudizio la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all'interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto e tale interesse costituisce l'oggetto primario delle valutazioni dell'amministrazione, si legge nella sentenza del presidente della terza sezione quater del TAR del Lazio. Ovvio insoddisfazione da parte del presidente della SILB FIPE Maurizio Pasca, associazione che ha effettuato il ricorso, che ora parla del rischio di proliferazione dell'abusivismo. L'ordinanza del Ministero non sta facendo altro che incentivare l'abusivismo, ha detto. Siamo già in possesso di centinaia di video di feste abusive in ville che sfuggono ad ogni controllo, in un filmato con giovani che addirittura si dichiarano positivi al covid. Ora uno sguardo anche alla scuola nella nostra provincia. Per saperne qualcosa di più abbiamo raggiunto Antonella Greco, che è il presidente bresciano, il presidente dell'ANP, l'associazione nazionale presidi di Brescia, che ha cercato di fare un po' chiarezza in questo breve strato della nostra intervista, parlerà di mascherine e darà appunto la conferma sulle date. Per i bambini dei sei anni in poi la mascherina la possono utilizzare, al di sotto dei sei anni, come già sapete, no. Adesso si parla addirittura, anche questo sta facendo discutere, del fatto che la mascherina dovrebbero tenerla in caso in cui il distanziamento non ci sia. È ovvio che questa mascherina tenuta per una mattinata intera in classe, compresi i docenti, è un pochettino difficoltosa da gestire, però in caso di mancanza di distanze, se non si trovano altre soluzioni, al momento la mascherina dovranno comunque utilizzarla per entrare in classe, per muoversi. Questo sicuramente è obbligatorio. Non potranno girare, ci saranno anche delle regolamentazioni, anche per quanto riguarda lo spostamento fuori dalla classe e comunque quello sicuramente con mascherina. In ogni caso la scuola partirà? Sì, secondo noi sì, partirà. Come? Poi vediamo, vedremo. Se ci saranno dei problemi si affronteranno, un passo alla volta. E anche in questo caso si trattava solo di un breve strato della nostra intervista ad Antonella Greco. Se volete ascoltarla in versione integrale, sono stati toccati anche altri diversi temi in merito alla scuola e al coronavirus davvero molto interessanti. Vi invito a restare con noi subito dopo la sigla di questo telegiornale per il nostro focus con l'intervista completa alla presidente dell'ANP di Brescia, che trovate ovviamente anche sul nostro sito internet. Ora apriamo la pagina della cronaca e l'apriamo con una triste notizia, con un lutto. Infatti è mancato Giulio Giuliani, uno storico comandante dei vigili di Brescia. Un custode della nostra Brescia. Così potremmo definire Giulio Giuliani, storico comandante dei vigili urbani della città, scomparso domenica nella sua città natale Carrara. Già ufficiale degli Alpini, vice comandante dei vigili urbani di Brescia nel 1964 e poi comandante del corpo dal 1982, Giuliani è stata una vera e propria istituzione di Brescia, a cui è stato legato fino alla fine. Non mancava mai infatti di tornare in quella che per anni era stata la sua casa, specialmente in occasione della festa della polizia locale ogni 18 aprile. Rigore e passione hanno guidato l'operato, preziosissimo, del comandante Giuliani, che ha realmente incarnato il senso del servizio al pubblico e dalla città, ha detto il vice sindaco Laura Castelletti. Un modo di essere e di interpretare il proprio ruolo che gli è falso rispetto, riconoscenza ed enorme affetto da parte dei numerosi colleghi, cui quale ogni anno ha sempre voluto ritrovarsi e che sempre lo hanno ritrovato con grande gioia. L'ultimo saluto allo storico comandante mercoledì nella sua Carrara. Collaborazione fra istituzioni e collaborazione fra istituzioni e cittadinanza. Su questi aspetti ha voluto porre l'accento il comandante della polizia locale di Salò dopo la cattura di un ladro nel centro storico. Entra in un negozio, ruba 350 euro investiti e fugge. Ma poco distante, ci sono dei ciclisti che, all'artati alla richiesta di aiuto della commessa, si gettano al suo inseguimento. Tutto ciò è avvenuto Iseo, in Via Campo, dove un 25enne italiano residente in Valle Camonica ha provato a sottrarre alcuni abiti da un negozio. La commessa, però, non si è lasciata prendere dal panico e, mentre i ciclisti inseguivano il ladro, ha allertato la polizia locale che, a sua volta, ha iniziato a rincorrere il giovane. Bloccato in Via all'Europa, il malvivente non ha voluto dichiarare le sue generalità. Gli agenti lo hanno prima portato nel comando di Piazza Garibaldi e, successivamente, scortato nella caserma dei carabinieri dove è stato identificato. Ciò che vogliamo sottolineare, ha spiegato il comandante Claudio Modina, è che si è registrata una proficua collaborazione fra forze dell'ordine e cittadinanza, che ha permesso un risultato immediato. A questo si aggiunge la collaborazione con le altre forze dell'ordine presenti sul territorio, che ovviamente ringraziamo. E in questa storia, invece, un ladro non era appena stato arrestato, era stato assicurato alla giustizia, diciamo, alla vigilia di Ferragosto, ma questa misura non è bastata. Infatti, appena una manciata di giorni dopo, è stato trovato mentre rubava, mentre svuotava la cassa del bar dell'oratorio di Palazzolo per appena poche decine di euro. 36 euro il magro bottino di un 29enne di Palazzolo intercettato dai carabinieri dopo aver svuotato la cassa del bar dell'oratorio. Ad allertare le forze dell'ordine, una chiamata al 112. Qualcuno ha scassinato la porta dell'oratorio San Paolo in San Rocco e ha rubato l'incasso del bar. I militari, giungendo sul posto, hanno incrociato l'uomo, già noto per svariati precedenti, e finito in manette appena una manciata di giorni fa, alla vigilia di Ferragosto, per aver tentato un furto in una farmacia. Il rapinatore recidivo è stato subito trovato in possesso dei 36 euro scomparsi dall'oratorio. Somma, subito restituite i legittimi proprietari ed è stato nuovamente arrestato. Sottoposto a rito direttissimo, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto gli omiciliari. Apriamo ora la nostra pagina sportiva. Parliamo di Brescia Calcio, anche se mancano le ufficialità, dovrebbero arrivare nel giro di qualche giorno, perché settimana prossima è atteso l'inizio del ritiro a Torbole e Casaglia. Si sta andando a delineare quella che sarà la squadra tecnica, quella che sarà la panchina che guiderà le rondinelle nel prossimo campionato di Serie B. E come vice di Del Neri potrebbe arrivare un suo pupillo, Stefano Lucchini. In attesa dell'ufficializzazione dell'ormai tecnico Gigi Del Neri, è in fase di preparazione anche la sua squadra tecnica, anche perché il ritiro si avvicina, così come l'avvio della prossima stagione. Il tecnico friulano sembra voglia circondarsi dei suoi pupilli, a partire dal vice allenatore, che potrebbe essere, stando ad alcune indiscrezioni, Stefano Lucchini, e ci sarebbe anche un posto per l'ex capitano Gastaldello. Lucchini, pedina fondamentale della Samp di Del Neri, dopo ritiro dal calcio giocato nel 2017, è restato a Cremona, dove è iniziato a farsi le ossa guidando prima gli under 16 e successivamente la primavera. Ora potrebbe essere il momento del grande salto fra i professionisti alle spalle di uno dei suoi mentori. In corsa per un posto la vice allenatore ha anche Luciano e Franceschini, ma per ora bisogna attendere almeno ancora un paio di giorni. Venerdì infatti Del Neri dovrebbe rientrare a Brescia per definire alcuni punti della prossima stagione e lunedì appuntamento a Torvole per la fine delle brevi vacanze estive. Ora parliamo di mercato perché è davvero in fermento. Prima del prossimo servizio vi parlo di una breve notizia che è appena arrivata in redazione. Infatti John Chancellor, il muro difensivo venezuelano del Brescia Calcio, si troverebbe in questo esatto momento a Torino, dove si starebbe sottoponendo le visite mediche e quindi manca solo l'ufficialità per John Chancellor al Torino. La notizia la riporta Toronews.net. E mentre qui ci avviciniamo praticamente ad un'ufficialità, vediamo quali sono gli squilli di mercato per altri due giocatori importanti nelle ultime stagioni del Brescia Calcio. Stiamo parlando di Donna Rumma e Torregrossa. Dopo le indiscrezioni sui vari interessamenti per il gioiellino delle rondinelle Andrea Cistana, proseguono le voci di mercato attorno al Brescia Calcio e questa volta l'oggetto del desiderio sarebbe Alfredo Donna Rumma. L'attaccante classe 1990 non è più un giovincello, ma messo sin luce nelle ultime stagioni con la V sul petto, ora sarebbe nel mirino dell'Udinese che avrebbe già preso contatti con Cellino per discutere della cessione. Come riportato da alcune fonti, Marino avrebbe proposto uno scambio con Nestorowski pronto ad approdare nel Bresciano. Il tutto si potrebbe concludere. Il presidente Massimo Cellino infatti ci starebbe pensando e la risposta definitiva è attesa nei prossimi giorni. Attenzione anche a Torregrossa però che stuzzica l'interesse dei friulani e potrebbe a sua volta partire. E con questa notizia si conclude qui questa edizione del telegiornale. Io vi ricordo che tutte le notizie si aggiornano sul nostro sito internet www.elivebrescia.tv dove potete anche seguire sempre la nostra diretta 24 ore su 24 del canale 16 e 197 del digitale terrestre in questo piccolo box espandibile a tutta pagina e visibile anche da mobile. Se invece volete ricevere le notizie direttamente sul vostro telefono cellulare il modo migliore è iscrivervi ai nostri canali Telegram, Elive Brescia News e Elive Brescia Sport e le notizie arriveranno direttamente senza fatica sul vostro telefono cellulare anche se siete in vacanza così resterete sempre aggiornati su tutto. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che l'informazione torna questa sera alle 19 con il nostro direttore, vi ricordo anche che subito dopo la sigla di questo telegiornale ci sarà l'intervista completa ad Antonella Greco sulla situazione della scuola bresciana specialmente in vista della ripartenza a settembre dopo l'emergenza sanitaria. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione Elive Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Punto fermo è sicuramente la riapertura il 14 settembre per tutte le scuole, per l'infanzia e 7 settembre. Le scuole stanno già attivando i piani di rientro e in base anche all'ordine di scuole, quindi stanno mettendo in campo sia la riapertura con tutti gli studenti dove possibile e mi riferisco alle secondarie e secondo grado, in alcuni casi attiveranno anche la didattica a distanza integrata. Cercheranno di favorire il più possibile la presenza magari per le classi prime e per le quinte all'inizio, le prime particolari delle superiori per dare l'opportunità ai ragazzi di conoscere la scuola e ai docenti di conoscere gli studenti che entrano. I comprensivi si stanno attivando per anche loro far ripartire il tutto dopo che hanno analizzato tutti gli ambienti anche con il supporto in alcuni casi dei comuni dove stanno intervenendo per dare e fare delle modifiche di ampliamento, di ristrutturazione e poi c'è tutto il protocollo chiaramente di sicurezza che tutte le scuole stanno mettendo in campo seguendo esclusivamente le ordinanze e le indicazioni del Ministero. Situazione banchi che sembra essere quella più calda. Ci sono? Ci saranno? C'è qualche certezza? Allora i banchi per chi li ha richiesti arriveranno e arriveranno con le tempistiche ovviamente un po' rispetto all'inizio dell'anno scolastico probabilmente un po' in ritardo perché la richiesta è stata molto alta e bisogna dare anche tempi alle ditte di consegnare. In questo primo periodo come si gestirà allora? Avranno i banchi che hanno sempre utilizzato perché qui si parla di banchi che sono quelli piccoli da un metro o chi ha chiesto addirittura quelle famose sedie a rotelle che tanto ha fatto discutere ma in ogni caso utilizzeranno eventualmente i banchi in dotazione fermo restando che c'è solo un problema di distanziamento che comunque permane tra uno studente e un altro. Mascherina sì, mascherina no per i ragazzi, per i bambini? Allora per i bambini dei sei anni in poi la mascherina la possono utilizzare, al di sotto dei sei anni come già sapete no. Adesso si parla addirittura, anche questo sta facendo discutere del fatto che la mascherina dovrebbero tenerla in caso in cui il distanziamento non ci sia. È ovvio che questa mascherina tenuta per una mattinata intera in classe, compresi i docenti, è un pochettino difficoltosa da gestire, però in caso di mancanza di distanze se non si trovano altre soluzioni al momento la mascherina dovranno comunque utilizzarla per rientrare in classe, per muoversi, questo sicuramente è obbligatorio. Non potranno girare, ci saranno anche delle regolamentazioni anche per quanto riguarda lo spostamento fuori dalla classe e comunque quello sicuramente con mascherina. Qual è quello che come presidi vi preoccupa maggiormente? Ma quello che più che preoccupa è il carico di responsabilità che sta arrivando addosso ai presidi in questi ultimi mesi e quindi hanno timori che possa succedere qualcosa e di incorrere in denunce penali? Perché effettivamente è stata una rincorsa in quest'ultimo periodo perché le ordinanze cambiano, le indicazioni arrivano in base a quello che succede ovviamente alla situazione del Covid, quindi spesso e volentieri hanno dovuto cambiare in corsa e stanno cambiando in corsa quello che è l'operato. Però se seguono le linee guida, se seguono le indicazioni del CTS, appoggiandosi poi al loro RSPP, RLS all'interno della scuola, credo che questa preoccupazione possa in qualche modo alleggerirsi. Certo, bisogna dimostrare comunque di mettere in campo tutte le regole che ci sono state indicate, anche se anche in questo caso sta emergendo una parte di critiche di no Covid, quindi le scuole non possono non rispettare quelle che sono le indicazioni di legge, quindi indipendentemente dalle opinioni personali, i dirigenti scolastici devono perché altrimenti si incorrerebbero in grossi problemi e anche in denunce penali. In ogni caso la scuola partirà? Sì, secondo noi sì, partirà. Come? Poi vediamo, vedremo. Se ci saranno dei problemi che si affronteranno, un passo alla volta.